Sta procedendo tutto bene, ci sono problemi particolari, ragazzi stanno lavorando benissimo con grande impegno e con grande determinazione e non abbiamo contrattempi particolari, quindi tutto bene. Ecco, in questa prima parte su quali aspetti hai preferito puntare? Ah, più che altro sul discorso fisico, sicuramente sempre con tanta palla, ma il discorso fisico quindi l'aerobico è forte come siamo abituati a fare, con cariche abbastanza importanti. Ok, intanto ci sono anche le classiche amichevoli estive, riduce intanto da una prima vittoria per quello che possono significare le amichevoli o quantomeno i risultati, forse significa di più la partita in sé al netto del risultato, poi se c'è la soddisfazione benvenga di una vittoria soprattutto quando ci sono degli innesti nella creazione dell'amalgama. No, sicuramente è una partita che ci ha detto quello che ci aspettavamo, è una squadra comunque un po' lenta, un po' imballata, annebbiati dei carichi, ci sono difficili cose, nella fase difensiva non abbiamo rischiato niente, quindi siamo in linea con quello che ci si aspettava da qualche tipo di partite, soprattutto la prima. Ecco, a proposito di partite, come dicevo prima, siamo ormai alla vigilia del primo impegno ufficiale di questa stagione, domenica l'esordio in Coppa Italia, sarete impegnati in campo con il Monopoli? Sì, è una trasferta impegnativa dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista logistico, che viene in un periodo estivo nel quale è difficile trovare mezzi e fare esperte fatte bene, quindi se non problemi in più che si aggiunge, più che altro sarà quello, poi dal punto di vista tecnico incontriamo una formazione che l'anno scorso è fatto molto bene, piazzandosi al sesto posto, quindi è difficile, vedremo, comunque ci prepariamo per affrontare questa partita nel migliore dei modi rapportato al periodo in cui stiamo lavorando. Momento in cui si sa bene, le gambe sono particolarmente pesanti. Mister, ti volevo chiedere una cosa, proprio in una battuta, cosa significa quest'anno affrontare la stagione del centenario del Piacenza? È una responsabilità in più perché è una festa importante, è una ricorrenza che è importantissima, siamo fortunati a poterla celebrare noi e credo che venga nel momento giusto con una società che ha rilanciato un po' il Piacenza Calcio, con una squadra con discrete ambizioni, quindi da campionati dei professionisti e poi ripartendo dal basso, per cui credo che ci sia tutto per far bene, spera noi sul campo fare questo.